Se non trovo un po' e non mi togliezi e metto un po' tra l'altro, vorrei agli appassi in mia tabella, perché non mi ha la gramata, che non so, non so, non so. Se non trovo un po' e non mi togliezi e metto un po' tra l'altro, che non so, non so, non so. Grazie a tutti.